Se io devo chiedere scusa la chiedo sempre. In questo caso ritengo, e magari ho torto, però ho ragione di dire quello che sto dicendo, che scusa non la deve chiedere il Comune di Como, ma la devono chiedere tutti quei autisti che purtroppo hanno circolato nel venerdì della nevicata senza mezzi adeguati, cioè senza catene e senza gomme della neve. E questo mi dispiace perché io posso dimostrare, e se qualcuno vuole venire posso anche dimostrare in base a tutti i report che abbiamo, che noi, non tanto io, ma il Comune, da giovedì sera era pronto a uscire per intervenire sulla nevicata che avevamo previsto. Abbiamo messo in campo 21 mezzi, cosa che il Comune di Como fino a venerdì non aveva mai fatto. 21 mezzi che sono usciti sia venerdì sia sabato nel momento della nevicata. Devo anche dire che purtroppo questi mezzi in tanti casi sono stati bloccati dalle macchine o dei camion che purtroppo hanno trovato sulla strada e non hanno potuto fare il loro dovere. Premetto che i mezzi sono usciti, le prime vie che abbiamo fatte sono state le arterie principali, poi siamo intervenuti anche sulle altre. Dico sempre che si può sempre fare meglio, ma in questo caso non posso prendergli delle colpe quando eravamo in massa sulle strade.